Bene amici del tubo, benvenuti in questo nuovo video, io sono il cugino, lo streamer del popolo che fa i pick del popolo, re delle pentakill, maestro di trollpick, dottore della bronzite e adesso ho preso anche 5 gold prima di Xenzao, nessuno mi batte a questo giochino qui, forse ogni tanto la mia ragazza sta allenando me Ok, allora il pick di oggi è una V Full Lifestyle, volevo già essere giocato a giungla però dovevo pickare trando il top in questo game ma me l'hanno fottuto i nemici e quindi ho visto tra i pick che avevano richiesto l'unico che poteva andare bene top era V Lifestyle e quindi eccoci qua, siamo però contro Garen, io pensavo di essere contro Trandol visto che Garen è stato il last pick Garen con l'Ale of Blade tra l'altro, caruccio ragazzo, non ho mai visto una roba del genere, di solito Garen si fa con altre robe ma vediamo come va questo coso Ciao Cactus, buonasera, buonasera Ma hai baccato la live di nuovo, non mi sta caricando le live consecutive, no, farai, funziona perché Marghe l'ha condivisa poco fa Come no? Ma non l'avete visto Marghe la condivisa prima? No, c'è qualcosa che non funziona comunque con Switch ultimamente Provate a riscattare la dimostra fedeltà Considerate che comunque ci vogliono 10 minuti prima che venga considerata la live consecutiva Eh, vedete che funziona? Se si può riscattare quello ragazzi funziona tutto Dovete solo avere pazienza, aspettate che arrivi a 10 minuti di live di fila A massimo chiudete l'app e riavviatele e vedete se è aumentato il numerino Ah sì Ma siete molto fedeli, vero i ragazzi? Provate a vedere di riscattare questa ricompensa, è molto un casino, non si capisce più niente Allora ragazzi, come stiamo andando su questo Garen? Lo stiamo smontando? Eh amici? Ma io direi di sì Avemo sbloccato anche la W Ora è ripartita, avete visto che funziona tutto? Allora purtroppo questo Garen non è per niente aggressivo come mi aspettavo Ho visto l'Aid of Blade e ho pensato, dai questo qua È un Garen che tira dritto, cazzo duro proprio Madonna mia Il flash Contro al pilastro di Trandol Praticamente è stato un flash contro il muro per questo Garen Va bene, va bene L'unica volta che è aggressivo è perché c'è il suo amichetto Quindi abbiamo capito già anche il lane ci troviamo La top lane, purtroppo è la lane della noia Della tortura La lane di chi si rompe le palle prima ha perso Perché poi dive e finisce male Niente, è proprio super passivo il signorino Ma io mi trovo sempre di top lane veramente insicuri E questo purtroppo li rende molto difficili da uccidere Perché appunto stanno tranquilli Poi vabbè Garen ha la rigenerazione di passiva Quindi è fatta apposta Guardalo qua Probabilmente starà maxando la W per avere più scudo Ciao Gianluca, buonasera Vabbè Non possiamo fare molto Quindi per ora continuiamo a fare il nostro dovere Ovvero trollare Andiamo a full life steal Possiamo prenderla questa effettivamente Ci può aiutare un po' Allora innanzitutto già con questo Con questo 7% di rubavita Più le cure di queste Più le cure di tutta questa roba qua Diciamo che Siamo un po' più tranquilli come sustain Non che sia un problema Visto che Garen non ci attacca Cioè lui è startato con la lama di Doran Poi è andato back per tippare Senza prendere pozze Ma prendendo le scarpe Essenziale a quanto pare nella sua build Doveva fare il recall solo per le scarpe Appena arrivato a 300 gold È andato back Ditemi se qui non siamo allo zoo amici Vedete che il titolo è giusto Sono allo zookeeper Lui che cos'è? Che tipo di animale è questo Garen secondo voi? Come è finito Toplan? Eh dovevo giocare trando il top Però purtroppo L'hanno peccato loro È una bronzite seria Potrebbe essere ragazzi Ma noi siamo qui per curare tutto Curremo ogni male È un coniglio Eh conigli corrono molto Effettivamente sono abbastanza Guarda guarda Si è messo lo scudo Prima ancora che io ingaggiassi Guarda poi La cooper scappare Neanche mi attacca Velocamente via Ma questo come pensa di vincere le partite Se deve giocare così Come fa? Eh ovviamente non vince Rimane in iron I ragazzi qui devono un po' svilupparsi Fortuna c'è il dottore della bronzita Che aiuta molti di loro Spero effettivamente negli anni Di aver aiutato A migliorare le persone Solo con i gameplay Deve essere un grande merito Cugino ma soprattutto chat Una domanda importantissima Vai Io metto prima il latte Sempre Sempre prima il latte E poi dopo metto i cereali In continuazione Cioè Metto i cereali Mangio finché non li finisco Anche se rimane del latte Ovviamente ne rimane sempre un botto Altri cereali Altri cereali Sta per finire il latte E gli metto del latte E gli metto i cereali E così È la tazza più infinita del mondo E finisce che mi mangio Una vera Una confezione di gocciole così Solo che non fa molto bene Infatti ho smesso di mangiarle Mi sentivo male Dopo aver mangiato Una vera confezione di gocciole A notte Prima di andare a dormire Pazzo ragazzi Ma non devo farle Stai cazzata Wild Julie La sua tpm preferita è tornata Scherze parte come state Oh ma non sapevo che fossi tu Davvero Perché non sei l'unica ragazza Che gioca a Evelyn C'è una ragazza Che addirittura Ha fatto anche Ha fatto anche La voce di Evelyn In GTA Roleplay Dove appunto Roleplayava Il fatto di essere Evelyn Non so se tu puoi vantare queste cose O magari sei proprio tu E hai cambiato nick Che ne so Figo È molto figo È stato Meglio che vai mid Sì sarebbe forse meglio Perché Però cazzo 2-0-2-0 Qua mi hanno fidato tutto Ma ragazzi Le partite in top Sono sempre just chatting Lo sapete Purtroppo È la sfortuna Guardalo lì Scarpe armor subito Per subire meno danni possibili Così può dire Io almeno non ho intato Lancia la monetina Il suo team è più forte Perfetto Ho vinto il game A posto Eh ma io almeno Non ho dato kill L'avete visto Sono bravo Io un profilo di ERP Di Eve Però non faccio un granché Ah Eh però dai Comunque sia Vedo che La passione Per Evelyn Spinge Questa cosa è molto bella Perché non swap Più mid Coro aurelion Ma Non so quante speranze Avrei comunque Contro le blank Fiddata ormai Forse è sicuramente Più divertente Che giocare contro questo Allora adesso scrivo Ad aurelion Se non muore Mi fa un favore Aurelion Now you top And me mid Swap E niente Coglione Però aspetta Res Allora Almeno così Tu farmi Aurelion Mio Io farm E gara in farma E siamo tutti a posto Aurelion Go top And chill Versus garen You free farm And I kill Dai Che bello Ho capito Sono contento Ragazzi Thanks No problem Grazie a te Guarda Non te lo dico Ma mi stai facendo Un favore Garen Garen is Super Pussy Ah ok Però con Tramber Comunque V top Prima volta che la vedo Interessante La odio Beh Questo non è Dovuto Da me In realtà L'avrei voluta Giocare giungla Però Mi son trovato Top Ah V top È fattibile Come picca È sicuramente Fattibile Però purtroppo Non Allora Di certo Non lifesteal Ma una build Bruiser Magari più Fattibile Oh c'è un bel Problema qui Lei è Tre Kill Ok Ed è un assassin Che mi ha quasi Shottato Io sto facendo una build Con la lama del re Per avere Danni contro Chi non è tank E lei purtroppo Non è tank Cioè contro chi è tank Lei purtroppo È tutt'altro che tank Quindi Diciamo che il primo oggetto È un po' inutile Contro di lei Contro di lei Poteva andare bene Che ne so Lì L'arco scudo Per avere Quello scudino lì Che mi protegge Un po' dal burst Oppure L'idrafamelica Potevano andare meglio Come item Addirittura anche questo Perché no Appena abbiamo i soldi Recolliamo E ci prendiamo La lama del re Vabbè Ha missato tipo tutto In realtà Lei non ha la ulti adesso Quindi se io sto Potrei Vincere il trade Vediamo se Rimano anche lei Ovviamente Se l'è Svignata La potevo uccidere lì Però purtroppo Mi è diventata invisibile Con la passiva E si è salvata un pochino Molto bene Era uno shutdown Meglio ucciderlui Allora che le blank Ragazzi Questa vlifestia La sta spingendo Bene bene Andiamo Ha fatto l'instant flash Io l'ho fatto l'instant flash Lei non lo so Non me ne sono accorto Se ha flashato Perché invisibile Non ce l'ha capito più Un cazzo Una certa Allora E questo item Ce l'abbiamo Abbiamo bisogno Sicuramente Il cdr Ce l'abbiamo bisogno Attack speed Potrebbe aiutare Anche questa Sì Contro questo team qua Ma facciamoci questo Ma Che ci aiuta molto Contro il blank In questo caso Mi sono rifatto molto Sì Vedete che Chillano entrambi In top Aurelion farma E aurelion A me conviene Che farmi SS Bro Diciamo che Era andata in base Che cazzo ne sai Ah questo è venuto qui vicino Per prendersi la plate Ottimo Utile su di te Che da fa questo Oh madò Quanta gente c'è Però raga Ho preso un'altra kill Quindi in realtà è buono Solo che loro erano in 4 40.000 Cosa ne pensi il nuovo dottore Ma io non ho mai visto Nemmeno quelli vecchi Ragazzi Io non ho mai visto Dottor W Non mi è mai interessata Com'è serio Ho visto Le prime puntate Della prima stagione Mi hanno annoiato molto E poi lasciate perdere Insomma Non so se quelle serie lì Hanno un termine specifico Ma quelle che tipo Hanno gli episodi Abbastanza autoconclusivi In una lore Generale Che viene sviluppata Lentamente Non è troppo utile In realtà Non mi fanno impazzire Quel genere di serie E non le guardo Ciao GG Ggon Buonasera Ad esempio Invece Sto guardando Cioè sto guardando Tutte serie Che Hanno una storia Che prosegue E che gli episodi Ti lasciano lì E tipo Cazzo ne vuoi vedere un altro Quelle sono le serie Che mi piacciono di più Sì sì Chiedi il codice Lui piace molto Quella Attenzione E lei che ci faceva Qui Io ho molta Life Steal Però dovrei Sono morto Ma dovrei aver fatto Fare delle kill Alla squadra Senna mi sembra Più capace Di Xenzao Quindi felice Che l'abbia preso Lei Il problema Di andare Con tutta questa Life Steal Contro un Assassin Come le Blanc Potrebbe essere Che mi shot Ma forse no Se siamo fortunati Attenzione È peccato Senzao Veramente Stava facendo il Giorgio Se ne è fregato Di tutto Senzao purtroppo Vive nel suo mondo Niente In questo periodo Sto guardando Il problema Dei tre corpi Che mi piace molto Come serie Solo che Ricordavo Che ne avevi parlato Pure tu Quindi Pensavo Avessi visto La serie Boh Sicuramente Ne ho parlato Ma semplicemente Perché ne parlano Ne parlavano sempre Zesti e codice Visto che la vedevano Allora insieme Ma a me non interessava Massimo Io avrò detto Ah sì Quella serie Che io non vedo No A me non interessa Niente Poi anche Quelle serie lunghissime Che hanno Mille stagioni No Un fan per me Per ora Una delle mie serie Preferite in assoluto È Alice in Borderland Bellissima Ogni episodio Stupendo Una storia fantastica Dura poco Un posto Avrei potuto salvarli Se l'avessi preso Con la Q Allora dove è di là Io vado di qua Attenzione Li stiamo spaccando Tutti ragazzi Bravi 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 Alla fine Come ultimo item Prenderemo la visage Per aumentarci le cure E avere anche Magic Resist Così resistiamo pure Contro i burst Di Leblanc Garen proprio Letteralmente Non sta facendo niente In sta partita Dove gli prendere La prima torre Mi scusi Addios Mi va bene Perché questo È un Così surrendano meno Un gold reset Perché lei era 0-3 E un first tower Per me E un faster call Per me pure Incredibile Quante cose ha generato Questa azione E questa morte Buono cazzo Omurasamen Grazie dei 16 mesi Buonasera Bentornato Grazie del supporto Allora Omurasamen Dato che hai fatto L'abbonamento In questo periodo In cui c'è l'evento sub Ogni sub Può scegliere un pick Quindi hai diritto A poter scegliere Un pick Che io dovrò giocare E quindi vai Pensaci E scrivilo in chat Ecco Te l'ha scritto anche Phoenix Così lo segniamo E verrà giocato E più presto Ok Morte da LCS Sì abbiamo dato la kill Alla Lux support Attenzione Tempesta solare in corso Tra l'altro avete visto ragazzi Che in questo periodo C'è proprio la tempesta solare Irl Ieri mi ha fatto andare via La luce 30 volte Ha sfarfallato la luce Il mio pc si è spento Mille volte Meno male che non ho fatto la live Però sarai Impazzito E Speriamo che questa cosa Non crei problemi Perché Insomma Mi hanno detto che non è carina Io anch'io ho Life Steal Anch'io ho Life Steal Lo so che ce l'hai anche tu Però anch'io ce l'ho Fare gara di Life Steal Contro Talando Che si cura un botto È dura Ma ce l'abbiamo fatta Grazie anche Al portentoso Ignite Che mi porto dietro Senza quello Non saprei come fare Anche perché lui è full armor Ha già 60 di armor Che riduce un botto I danni che gli faccio Riduce 12% di attacchi base Riduce di 12 danni degli attacchi base Insomma Non subisce danni Ma presto ci cureremo ancora di più Non è un problema Con gli oggetti che facciamo Aumenteranno i nostri danni E aumenteranno anche le nostre cure E di conseguenza Aumenteranno di brutto le nostre cure Perché se aumentiamo Sia danni che cure Le cure di prima sono più potenti Ma ne compri ancora di più È tutto A scalare bene Bene Allora lui adesso non ha la ulti Ok Il bro Devo fargli lo scherzone Ma purtroppo Vabbè se devo morire Aspetta no Forse no Mi curo Non abbastanza ancora Ma arriverà il momento Non ti preoccupare Arriverà il momento In cui mi correrò E' ovvio che se lui inizia A comprare tanta armatura E io gli faccio Cioè diminuisce i miei danni Quindi diminuisce le mie cure È un po' un counter Avesse preso la Tormel E diminuiva ancora di più Le mie cure E i miei danni Quindi Lignite applica ferita grave Come la Tormel O è diversa È la stessa identica cosa Gli item che aumentano le cure In generale Aumentano anche le cure Della F-Steal Assolutamente sì Anche perché poi Però di item Ce n'è uno solo Che aumenta le cure Ovvero La Visage Non ce ne sono altri Che aumentano le cure Quelli che Intendi tu magari Sono gli item da support Come questi Che aumentano Guarigione Potere scudo Ma quelle sono Altra roba Non sono le cure Della F-Steal Quelle sono le cure Delle tue abilità Gli scudi Delle tue abilità Sono gli oggetti da support Cosa che a me Non serve a niente Ce l'infrante Non vale Certo Ce l'infrante è un item Che si può fare Perché mi fa curare Però non abbastanza Quanto questi Cioè Non dà life steal Non è una statistica Che a noi interessa Quella che Da cielo in franta Visto che non dà Proprio Niente Noi vogliamo Full life steal Ragazzi Ci atteniamo al piano C'erano 30.000 persone Lì Indietro alle blanca Guarigione e cure Sono due cose diverse Esatto Cioè Questa roba qua Aumenta Aumenta La statistica Con cui le tue abilità Curano di più In sostanza Buonasera Buonasera cugino Io proverei un bel troll pick Ad Aigelo Buon divertimento Ciao salvatore Ne abbiamo già fatti tanti Di troll pick ad Aigelo Mi sa che te li sei persi Ti consiglio di recuperarli Durante tutta la stessa Forte sali challenge Ho giocato un sacco di troll pick Ho giocato tipo Vi esplodi build E tante altre robine Le abbiamo già fatte ste cose Le chiedete sempre Vi ho accontentati Ora basta Se ve le siete perse Cazzi vostri Mi dispiace molto ragazzi Però Per anni mi avete chiesto Di trollare Aigelo Quando l'ho fatto Non mi avete cacato Adesso torno a fare Quello che mi piace fare a me Quante cose si imparnano Con il cugino In più ti godi Un gameplay di qualità E un bel pezzo di manzo Assolutamente sì Kater Le ringrazio per queste belle parole Vado a letto Buonanotte a tutti Grazie dei tuoi video Tutorialsweb Che mi hanno aiutato A seguire quando ero Ferro uno anno fa Grazie wild gialli Grazie mille Giulia Buonanotte Felice di Vedere queste robine Oh 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 Felice di sapere Che i miei video Vi sono utili Per migliorare Ok let's go No salvatore Non ti preoccupare È che C'è tipo Ci sono i video su youtube Della stessa forte sale Recuperati quelli Ci sono i video dove ho giocato Vi esplodi build Principalmente Poi cos'altro ho giocato Ho giocato Malfight AP E la prendiamo Lo shutdown Let's go Via back Se ne si va Se ne si va Se ne si va Allora no Che cosa sto guardando Life steal Ecco qua Ho cliccato per sbaglio Su una statistica Che non posso comprare Il critico Che comunque Ne abbiamo un 40% Nonostante questa build Life steal Inizia ad essere un bel po' Inizia ad essere un 43% Robavita Considerate che è anche aumentato Da questa runa qua Revitalize Che ci fa aumentare Un botto Le cure Che facciamo Infatti Ci ha dato già 605 di guarigione E scudo Bonus 560 Poi abbiamo anche Il colpo di scudo Che quando tengo uno scudo Tengo armor Magic resist E Mentre lo scudo L'attacco successivo Mi fa fare più danni Infatti ha già fatto 437 danni Lo scudo lo prendiamo Dall'arco scudo E dalla passiva Che ogni tipo 12 secondi Anche meno Abbiamo Vedete questo scudo Di passiva E quindi facciamo più danni Qui qua abbiamo messo Rubavita Conqueror Per avere Cure Quando lo stacchiamo Al massimo Anche se non è Rubavita Però va bene lo stesso E questa Runa qua Che ci permette Di far più danni Quando abbiamo Meno vita Così ci curiamo di più Meno vita abbiamo Più ci curiamo E quindi torniamo Ad avere più vita Perché dal 15 Perde il critico Io mi ricordavo che Cioè io so che Torna come la vecchia BT Che ti dà lo scudo Ma non pensavo Per essere il critico Ma Vabbè però dai Bastano 4 item Per fare Full crit Quindi Visto un TP Ma va bene Darmi Mi sta massacrando Prendi tu Prendi tu Io non ho bisogno Mi curo sui nemici Mi curo anche Sesso di questa Torno full Io la prendo Me ne frega niente Peccato che Ragazzi però Però Diciamo che Magari come ultimo item Per adesso Per adesso non mi serve Tanto No questa è una world O me la sono sognata Cioè nel senso Adesso facciamo Questo item qua Ok Che ci aumenta le cure Un botto Vediamo se riusciamo A fare qualcosa di meglio Eh no Facciamo le cure però Che non riesco a comprare Nessun altro item Dopo aver fatto l'idra Andiamo a comprare Questo Ragazzi Questo ci aumenta le cure Del 25% Quindi tutto l'efsteer Che abbiamo Aumenta del 25% Poi dopo Al posto delle scarpe Faremo Il cielo infranto Volendo Però Capisci quando tempo arriva in là È difficile arrivarci A 6 item In solito le partite Durano meno Quindi Sì La risposta è certo Lo facciamo Il cielo infranto Ma siamo sicuri Che riusciamo a farlo Ogni game In cui facciamo le build To l'efsteer No questo purtroppo Non è garantito In teoria La build è quella In pratica Non è così Devo Devo flashare via Perché quello mi ha ultato Ed è un problema Ciao gare Mire full Mire full Guarda Non vado giù Continuavo a curarmi Trandor Non è abituato Che qualcuno Si cura più di lui Tra l'altro Sto Trandor Veramente Cancerogeno Perché si è preso pure Quest'item qua Che riduce L'attack speed E quindi Io mi Attaccavo Cioè Attaccavo meno spesso E quindi mi curavo di meno Mamma mia Ma non è bastato Non è bastato A fermare il potere Delle cure Eh sì 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 E adesso mi Refullo Non è servito A niente Oh cazzo Eh questo Non possiamo fare niente C'è bloccato Allora Bene 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 Iniziamo Abbiamo tutti e quattro Gli item che danno Lifesteal Ok non ce ne sono altri Adesso potremmo vendere Questo e comprare Il vampiric Però non lo faremo Potrebbe andare bene Anche questo Perché attenzione VIP è fortissima Non me la proponete mai Con i 5 sub O con le sub O con quello che potete proporre Ma VIP è un troll pick Potentissimo Consiglio di proporlo In caso E questo Va anche molto bene Su VIP Quindi ripeto È da ruba vita globale 10% Però solamente Quando lo stacchiamo Quindi dopo 5 secondi Che siamo in fight Quindi Volendo come item finale Potrebbe essere Un Un degno item Il cielo infranto Dà delle buone stat Come quell'oggetto Lì quindi Alla fine cambia poco Solo che Perché VIP è forte Perché la E di AP Scala al 100% Della P E quindi tu Maxi la E Maxi la P E prendi la Lich Bain E con la E Fai tipo Mille danno One shot La gente L'ho giocato l'altro giorno In normal con degli amici Mi siamo divertiti molto Iniziato tanto Arrivato l'ora No no Questo è il primo game Non ti preoccupare Sì sì Garen è pacifico Garen pacifista Quello Non gliene frega niente Se volete Su youtube Già ci sono i miei video Con VIP E vi assicuro Che Non La gente non si aspetta Quanto worki bene In quel peak Solo vi assicuro Così ho anche altri Con quegli item Tutti i champion Con questi item Anzi ci sono campioni Che funzionano molto meglio Già un campione Che magari Sicura di base Come che ne so Trundle Ci metti pure sta roba Proprio Turbo cure Quindi me la giocherai via P Ma Tigno tu Tu hai già richiesto il peak O no Non lo so Warwick a P Cioè Warwick Warwick sicuro è un botto Sì 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 Però qui succedono delle cose Che a me non piacciono molto Vi dirò Adesso quasi quasi Vengo a fermare tutto Aspetta che mi prendo Dell'altro rubavita Nel dubbio Per ora Siamo al 55% Senza contare La pozza Che non viene contata Nel rubavita È stata diversa Purtroppo Troppi Sono troppi Troppi cc 3 secondi Stunato su 7 Non posso attaccare Non posso leftstillare Comunque vai 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 Questo drago Può essere buono Ci dà più attack speed Quindi più spesso attacchiamo E più ci curiamo Non era meglio Continuare i bot Non top Ti correggo Sì Poteva essere meglio Sicuramente Però a me non frega un cazzo Di finire il game Prima no Sì mi prendevo l'inibitor E finiva il game prima Ma sapete bene Che io non sono Qui per vincere Se dovessi tryhardare Lo farei Però io non voglio tryhardare Voglio che il game Durino più possibile Per fare i miei test I miei esperimenti Per fare le mie build Al massimo Quindi preferisco fare La giocata sbagliata Andare in mezzo a 5 Vedere se effettivamente Mi riesco a curare un botto Anche se la probabilità È tipo bassissima Infatti non me l'aspettavo Di vincere Anzi mi aspettavo di morire E così è andata Però Meglio testare Se no vinco Non vediamo la build completa Voglio altre Grasse risate Infatti il periodo In cui giocavo La stessa forte sali Era il periodo In cui bisogna tryhardare Sempre E finire i game Prima possibile Però non è il mio modo Di fare Non è che mi divertiva Molto Ok Sono qui per salvare La giornata O peggiorare Ok Il momento di curarsi un po' Porca troia Sono un botto Sono un botto Oh no Ho poca vita Oh no Ho tornato full vita Ragazzi Come facciamo Hanno smesso di inseguirmi Non sono più in pericolo io Siete voi Buonasera cugino Con i nuovi item Siportare di nuovo L'angorien Azz 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 Peccato Ma benissimo Comunque Sta molto bene Call an ambulance But not for me Attenzione Penta di Aurelion No è morto Peccato Avremmo ballato per lui Allora comunque Grazie mille Tiziano Best Dei nove mesi Bentornato E dato che Ti sei buonato Puoi scegliere un pick Il pick Me lo stai Indirettamente dicendo Dei Lamborghini Visto che hai chiesto Se si può fare con i nuovi Ma con i nuovi Intendi quelli che arriveranno Tra una settimana O quelli A che ci sono attuali adesso Che sono nuovi Rispetto all'anno scorso Secondo me Con attack speed Da ultimo item La build è superiore Allora assolutamente sì Ci sono modi Per rendere più efficienti Certe cose Ad esempio Se prendi Oggetti diversi Però È più bello Il meme Cioè Sono solo questo Faccio questo bene E altre cose male Cioè Mi curo un botto Poi magari Con un oggetto Un pochino diverso Tipo magari Non so La lama del ray In meno E prendo Che ne so Appunto Il cielo infranto Che mi rende un po' più Tancoso Resisto di più Però cioè Noi stiamo giocando Per trollare ragazzi Capite Poi la build Si può ottimizzare In mille modi Assolutamente sì Sul mio sito web Ad esempio Trovate delle build Più ottimizzate Per essere sia troll Ma sia forti E la maggior parte Delle build Che faccio io Quando le decido Di fare io le build Le faccio per trollare In quel modo Ok Proprio in modo Professionale E cercando di trovare La build migliore Per quello che dobbiamo fare Tipo Di certo Se mi lancio Uno v5 Non va bene Però non pensavo Che fossero 5 Non ho il tempo Di curarmi Se loro sono In mille E soprattutto Se mi arriva De matcha in testa Quelli che arriveranno Allora Tiziano best Ti rispondo subito Lamborghin Con gli item Che arriveranno Mi sa tanto Che purtroppo Non è cosa Perché tolgono Lethal Tempo Era la runa chiave Per rendere Gin veloce Il Lethal Tempo Aumenta l'attack speed Ok Tu dici Ma come fai A staccarlo Se conosci i miei video Di Lamborghin Lo sai Comunque Sai bene Che quanto Lethal Tempo Era importante Il Lethal Tempo Aumentava l'attack speed Di un botto Di un botto Quanto lo aumenta Di un 8% Per 6 8 per 6 Una volta Aumentava del 90% Vi ricordate Ma era Veramente tantissima Adesso sono 6 per 8 Quanto fa 48 Una roba del genere Non mi ricordo Dovrebbe essere così Sì sì 48 48% in più Di attack speed Dimmi tu Quale altra runa Ti può dare 48% di attack speed Non c'è Non ce n'è Cioè tu prendi il piede lesto Va bene Prendi il piede lesto Fai un attacco Sei un po' più veloce Finito Capisci Non Non ci sarà più il Lamborghin Lamborghin ragazzi È morto È morto Da quando hanno tolto i mitici Da quando hanno tolto il Kraken mitico Principalmente Era il Kraken mitico Che rendeva Lamborghin Ciò che era Da quando hanno tolto il Kraken Lamborghin è morto Adesso che tolgo il Lethal Tempo È morto ancora di più Cioè già adesso Lamborghin fa schifo Con la prossima patch Farà ancora più schifo Hai nel dubbio Le uccido entrambe Buonasera Cugino tutto a posto No Pinyu Non era tutto a posto Ma adesso che sei arrivato Finalmente Siamo tutti tranquilli Grazie La Shin la tolgo anche dalla Lich Ma io spero ben di no ragazzi No la Lich Bain Non può esistere Senza Shin Cioè la Lich Bain È un item Che è sempre stato così Dall'inizio Di quando esiste Loll Posso capire che mi levino La Dractar Ma non possono togliere La Lich Bain Nel sito web C'è una sezione Dedicata ai pick Legendari storici Purtroppo no Didu Anche perché Il problema Dei pick Legendari storici È dover mantenere Sul sito web Anche I vecchi item Cosa che adesso Non ci sono più Però Diciamo che ci sono Dei pick Storici Porca troia Ma Questi O mi vengono addosso In mille O non vengono Ma un bel fight Che ne so 1v1 1v2 Mi va bene Ma 1v3 4 5 Tutte le volte Capito che mi curo Però Non dal danno Di 5 persone Ecco Se è stato che ne so Un trundle Un warwick Mi potevo anche curare Dal danno di 5 persone Perché lui C'ha il potere Del Di essere un po' Pi' tankoso Pi' attack speed Comunque anche così Vi sembra sempre Che sciotti Non c'è niente da fare Sto champion Sciotta sempre Niente Mi hanno dovuto Ultare pure Con gane Non va giù Questa lì Ok ragazzi Purtroppo Non riesco A A sopravvivere A tutto Questo casino Allora Per rendere più efficiente Questa build Potremmo fare Benissimo Un po' di armor pen Perché ovviamente Il problema Il problema qual è Questo armor Questo armor Questo armor Quindi in questo caso Quale item Andiamo a prendere Per renderla ancora più efficiente Prendiamo il mento mori Perché Questo non possiamo farlo Abbiamo troppa vita Non funzionerebbe Però Trandola Una cosa come noi Che è molto forte Ovvero le cure Loro hanno riduzione Cure con gare Quindi è un po' un problema E anche tanta armor Per rendere più efficiente Al massimo la build Vendiamo questo Prendiamo questo Ok Però Avremmo dovuto farlo prima Questo oggetto Per rendere più efficiente Ormai è tardi Nel senso che Ormai la partita finisce Perché Aurelion si è fiddato Shotta E tutto Però L'avrei preso Come magari Quarto item Quinto massimo Ok E adesso Sicuramente è buono Lo prendiamo come sesto Al posto di un altro item Di cure Tanto Ne abbiamo abbastanza Direi Ma non so nemmeno se riusciamo Perché Costa un po' Costa 3000 Queste scarpe Le vendiamo a 630 Quindi Abbiamo bisogno di altri 1200 item Cioè 1200 gold Perché 1200 item Sono tanti Eh Tiziano Besta Allora Io devo vedere I nuovi item Come saranno Magari Li pompano Con un botto di attack speed Che Compensano La mancanza Delle tal tempo Però Non assicuro niente Quando avrò i numeri Alla mano Vediamo tutto Perché adesso I numeri che ci sono Sono quelli del PBE Non è detto che Le cose escano Con i numeri esatti Che Sono attualmente In giro Su internet Quindi Con pazienza La prossima patch Ce la studiamo bene Vediamo Se Lamborghin si può fare Se alcuni pick Restano esistenti E via Comunque Il Chogat più grosso di sempre È sempre bello da vedere Sì sì Se volete Il 15 Facciamo una live Per Spiegare i nuovi item Cioè io li dovrò Spiegare anche a me stesso Perché Non Non li so bene Cioè non è che li so già Io le nuove patch Le guardo quando escono Non Settimane prima Perché tanto so Come funzionano le cose Che I numeri cambiano Sul PBE Sono in un modo Escono in un modo Si fa tanto allarmismo Poi alla fine Le cose cambiano Un botto Quindi Non mi distraggo Vedete loro stanno Distruggendo la base Quindi vado anch'io Io in questo momento Non vorrei fare questa cosa Però Mi tocca Adesso però Mi curo anche Oh La finiamo? Prima voglio fare L'1v1 su Garen Vediamo se riesca a farlo Guardate quanto mi curo E niente È tornato full Mi fingano Come hai fatto? Come hai fatto? Da 1 di vita PAM Full vita Va bene È stato divertente La sua vita scendeva La tua saliva Ecco Volevamo questo momento Va inoriamo Aurelion Solo perché Ci ha Detto sì Allo swap Che gli abbiamo chiesto È stato gentile E questa cosa Ci ha fatto vincere La partita Non Non per scherzo Ma Ma cos'è Uno dieci Settemila D'anni Ma come Ma non ha giocato Era più Afg di Garen Vabbè Era in letargo Lui Faceva le sue cose Bene Questo era V Lifesteal Di Di Simoz Era il suo pick L'abbiamo fatto Lo segniamo